Si chiude la stagione calcistica della Junior Giuliano. Da Coco Eventi, in una serata di insegne della musica e del buon cibo, sono stati ringraziati e premiati i partner della scuola calcio nata circa tre anni fa. In un video è stato riassunto l'anno sportivo e non solo, tante le iniziative ludiche create dalla giovane e compatta dirigenza per formare i cittadini oltre che gli sportivi. Noi come Junior Giuliano abbiamo la facoltà di crescere piano piano, un mattoncino alla volta, non abbiamo pretese, siamo un gruppo di amici che ha creato questa bella cosa di stare insieme. Alla serata ha partecipato anche Ernesto Nani. Junior Giuliano è una società un po' io credo anomala per quello che conosco io il sud, perché io ho fatto Sicilia, ho fatto Calabria, ho fatto Puglia, ma la Junior Giuliano ha oltre che tantissimo cuore amicizia e si vede, si sente, si sente proprio a pelle. Adesso i nostri ragazzi cominciano a farsi grandi, quindi hanno bisogno di un'attenzione e di un'applicazione diversa su quello che sia la coordinazione della tecnica a base dei ragazzi. Mister Nani ha 40 anni di esperienza a livello professionistico e girando il mondo e avendo avuto a che fare con ragazzi che sono arrivati addirittura in nazionale come Pirlo, come Balotelli, quindi è una persona che ci darà una grandissima mano e insieme a lui, con il nostro programma, sicuramente i nostri ragazzi gioveranno delle esercitazioni che gli andremo a proporre. Qual è il consiglio che dà ai giovani calciatori, ai più piccoli? Di divertirsi e che il calcio è vita, la vita è dimostrata da tantissimi campioni, ma anche dai nonni, dai papà che non giocano più e che però quando ricordano che giocavano sulle piazze, che giocavano anche in campi angusti, però gli scendono la lacrimuccia perché si ricordano l'amicizia che il calcio riesce a fare e ad unire. Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno aderito al nostro progetto, a tutti i genitori che fanno i sacrifici durante l'anno per portare i bambini al campo e a tutte quelle persone che ci sono vicine come Junior Giuliano, perché io come dico sempre, stare insieme divertendoci, mettendoci cuore, passione e tutto l'amore che abbiamo per i bambini. Grazie a tutti!